Allora, mi è venuta un'idea, cioè non è un'idea originale, l'hanno già fatta in tantissimi, però nulla vieta che la possa utilizzare anch'io. Voglio prendere tutti i miei vecchi iPhone che ho conservato in questi anni, in realtà non sono nemmeno tutti perché mi manca il mio primo iPhone 4 e un paio in realtà sono anche di mio fratello, però in sostanza voglio fare il confronto delle fotocamere tra iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 e il mio attuale iPhone 12. Quindi per la prima cosa vado a scattare qualche foto all'esterno del mio garage, spero si sia un attimo diradata la nebbia, qui in pianura padana d'inverno. È un casino, però sono le 11 di mattina, potrebbe essere uscito almeno uno spiraglio di sole. Sì, c'è un po' di sole, top! Mi serve un soggetto, vediamo cosa posso riprendere. Qui c'è una rosa, che non so con che coraggio si è sbocciata il 27 gennaio. Stavo per dire che devo essere veloce a fare le foto e l'iPhone 5s si è già spento, era carico al massimo. Ok, ho fatto le foto con i quattro iPhone più recenti, mentre il 5s che era carico al 100% si è spento. La batteria ormai non regge più nulla, quindi mi serve il power bank e ce l'ho. La domanda è quanto tempo ci metterà per riaccendersi, intanto copio le foto degli altri iPhone sul computer. Attenzione, colpo di scena si sta riaccendendo, vado a fare subito le foto. Tra l'altro si era spento, batteria completamente carica. Vabbè, è il freddo, è il freddo, non penso che la batteria fosse scarica, è stato in carica tutta la notte. Quindi apriamo la fotocamera e proviamo a fare una bella foto. È vero, questo è l'iPhone che c'è la sabbia dentro la telecamera. Quel che è venuto, è venuto. Ok, prima che si scarichino, collego tutti gli iPhone al computer e copio i file. Allora, prima di partire col confronto delle foto e dei video che ho appena copiato, voglio anche illustrarvi le condizioni di questi iPhone, perché alcuni hanno degli anni, quindi non sono in condizioni ottimali. Come vi ho anticipato, l'iPhone 5s dentro la lente ha una quantità impressionante di polvere e sabbia, non ho idea di come ci sia finita, però così è e così ce lo teniamo. La qualità delle foto probabilmente è compromessa. iPhone 6s invece in ottime condizioni. iPhone 7 con la lente della telecamera spezzata in tre parti, però secondo me non si nota così tanto nelle foto. Dopo però vedremo, ne avremo conferma. Era l'iPhone di mio fratello. E anche di mio fratello era l'iPhone 8 con la lente in condizioni perfette, ma lo schermo che è stato usato probabilmente come incudine perché è frantumato. Il mio recente iPhone 12 invece è in condizioni ottime. Quindi possiamo partire con il confronto. Allora, partiamo aprendo la foto dell'iPhone 5s. Sicuramente da nuovo non faceva delle foto così pessime. Cioè, proprio si vedono i granelli di polvere che sono dentro la lente o sul sensore e la foto ha un certo alone dovuto appunto alla sporcizza all'interno della lente. Comunque, nelle zone in cui cerchiamo la nitidezza, la nitidezza c'è, non sono delle brutte foto. Eppure l'iPhone 5s è l'unico che fa foto a 8 megapixel, mentre dal 6s in poi sono tutte foto da 12 megapixel. Comunque ora passiamo al 6s. Ho fatto due foto con l'iPhone 6s perché la prima dal vivo mi sembrava leggermente sottoesposta, invece regolandola manualmente ho visto che ho fatto peggio. Quindi tengo buona quella che ha fatto in automatico. E la qualità dell'immagine del 6s mi è sempre piaciuta. L'ho utilizzato fino a pochi mesi fa e anche questa foto conferma il mio pensiero. Sono delle buone foto, si vede sicuramente il salto dal 5s. Comunque dignitosissime anche attualmente. Passiamo all'iPhone 7, tra il 6s e il 7 non noto tutta questa grandissima differenza nella qualità dell'immagine. Invece rispetto al 5s si nota parecchio. L'unica cosa che noto nel 7 è che nella zona sfocata c'è una sfocatura praticamente diagonale. E questo credo sia dovuto al fatto che ci sia un taglio nella lente e quindi le parti fuori fuoco hanno questo strano effetto bokeh con questa sfocatura molto particolare ma appunto non è colpa della telecamera è colpa del fatto che il vetro sia tagliato. Colpa di mio fratello quindi. Anche passando dall'iPhone 7 all'8 le foto mi sembrano abbastanza simili. Le ho sempre scattate in modalità automatica e quello che noto è che nell'iPhone 8 l'esposizione è un po' più elevata. La foto quindi risulta semplicemente più luminosa. Più luminosa non è assolutamente sinonimo di foto più bella anche se a volte può dare quella sensazione lì ma se vi devo dire la verità la foto in cui trovo più equilibrio nell'esposizione in cui vengono sacrificate meno le zone d'ombra e meno le zone più chiare secondo me è la foto scattata con l'iPhone 6S. Rispetto al 6S la foto col 7 mi sembra un po' meno contrastata che sia un po' più grigina mentre la foto con l'8 mi sembra un po' troppo sovresposta. I colori risaltano di più perché la foto è più luminosa però i dettagli sono mantenuti meglio nella foto col 6S a mio parere. Dall'8 passiamo al 12 e qui si vede una grandissima differenza proprio nella resa dell'immagine. Si vede tantissimo l'intervento del software anche se io ho disattivato l'HDR in tutte le foto e infatti questa zona più in ombra è stata tirata su come esposizione mentre il fiore al centro è stato isolato e abbassato di esposizione in modo da mantenere tutti i dettagli. Io personalmente non sono sempre d'accordo che il software prende e fa quello che gli pare a lui però effettivamente per essere una foto fatta col telefono è un ottimo risultato e preserva i dettagli in tutta l'area dell'immagine. Però secondo me confrontando questa foto con quella del 6S perde un po' di naturalezza. Si sente l'intervento del software. Scorriamo velocemente anche i video girati tutti in full HD a 60 frame tranne il 5S che può fare solo il full HD a 30 frame. Questo è il 5S che poverino non riesce neanche a mettere a fuoco con tutta la polvere che c'è nell'obiettivo. Questo è il 6S che ha delle zone un po' bruciate nelle parti più chiare dei petali della rosa. Questo è il 7S che invece riesce a recuperare anche quelle zone più chiare quindi espone meglio il fiore. Questo è l'8 con una resa leggermente diversa rispetto al 7 anche se molto simile. Sto guardando che probabilmente le zone più scure vengono recuperate meglio nel video fatto con l'iPhone 8. E poi infine iPhone 12 che mi sembra quasi un po' poco contrastato. Recupera tantissimo le zone in ombra, recupera tantissimo le differenze di esposizione all'interno anche dello stesso fiore quindi le parti più chiare, le parti più scure dei petali e mi sembra un po' quasi finto questo risultato di regolare l'esposizione così pesantemente anche in microzone dell'immagine. Ecco, mi dà un risultato molto piatto. Quindi in ambito video vincitori a pari merito. Secondo me sono iPhone 8 che gioca bene nella regolazione delle zone di luce e di ombra e a pari merito iPhone 12 che secondo me sforza troppo questa regolazione però è molto più nitido dà molto più dettaglio sebbene siano video alla stessa risoluzione. Quindi in conclusione abbiamo visto che c'è sicuramente un miglioramento della qualità dell'ottica su quello non c'è dubbio però c'è anche un diverso approccio del software che esegue più elaborazioni sulle immagini e sui video e tutto questo processing può piacere e può non piacere. A me a volte piace e a volte non piace. Quindi anche per questo video è tutto. Ci vediamo come sempre al prossimo episodio di Esperimenti in Garage. Ciao ciao!